Oggi allora Presidente, era la prima presenza della sua società oggi se non sbaglio a questa gara? La prima sì ma anche che rimarrà nella mente a lungo perché è una gara fantastica, ben organizzata e c'è questa cosa qui da dire che chi arriva qua su al santuario si sente un eroe perché è una gara difficilissima, una gara in cui ci vuole cuore, ci vuole anima e praticamente credo che l'adrenalina sia a mille e quando si arriva qui la felicità è massima Presidente ringraziamo per le belle parole, fra le altre cose voi non conoscevano in maniera perfetta il percorso oggi si è arrivato un po' alla ciega o sbaglio? Noi non lo conoscevamo assolutissimamente perché è la prima volta che veniamo qui comunque ecco dico a tutti che oltre il vostro sito c'è anche il nostro sito www.miletomarathon.it in cui ha sponsorizzato lungamente questa bellissima manifestazione che continueremo anche a produrre articoli a questo proposito dopo la gara di oggi e con ben divati Grazie La ringraziamo per la collaborazione, per la presenza però le altre cose si tratta di una squadra molto spiatata perché risalendo diciamo il percorso mentre venivo qui ho visto una macchia arancione eravate voi, c'era un gruppo nutrito di atleti che ha deciso anche di farla assieme poi siete arrivati alla spicciola però siete partiti assieme questo è bello in una gara di atleti che è già Sì perché diciamo che anche i nostri timori erano molti per cui il fatto di sapere che era una gara così impegnativa ho detto ai ragazzi di partire tutto in piano che c'era tempo per poi lungo il percorso insomma cimentarsi Perfetto, la ringraziamo ancora tantissimo di tutto veramente per la presenza, per la simpatia per l'aiuto che ci avete dato nella diffusione diciamo della gara Noi invece io con il Mileto Marathon ringraziamo voi per aver così organizzato questa bellissima gara che sicuramente anche l'anno prossimo riuscirà ancora meglio e parteciperemo in marzo E' una promessa eh? Grazie Ci vediamo alla premiazione poi a posto parti anche